Ciao, vi ritrovati nel nostro canale e benvenuti nuovi iscritti. Oggi facciamo un interattivo molto veloce, la domanda è secca, è un sì o un no? Si realizzerà il mio desiderio? Quindi concentratevi su un desiderio, ovviamente la stesa è valida da qui a tre mesi, non sarà un per sempre, non vi demoralizzate. Cerchiamo di fare, ricordatevi che sono degli interattivi, quindi sono energie generali. Quindi concentratevi sulla vostra domanda, scegliete tra la prima, la seconda e la terza variante, mettete in pausa il video se è necessario, ricordiamo la domanda è si realizzerà il mio desiderio da qui a tre mesi? Dopodiché andiamo con la prima variante. Quindi andiamo a chiedere se il desiderio di chi ha scelto questo mazzo si realizzerà. Concentratevi sulla questione, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Quindi qua cade subito l'appeso, il tre di coppia e il cinque di coppia. Allora, che dire? Qui sicuramente i tempi si allungano un po', quindi non mi sento di dire no, ma non mi sento di dire assoluto sì. Quindi, nel senso potrebbe essere che questo desiderio non si realizzi entro i tre mesi, ci voglia un pochino di più. Sicuramente arriverà la riuscita, arriverà la vittoria, perché comunque qui mi cade a fondo mazzo il sei di bastoni e qui il tre di coppia, che in questo mazzo è proprio la riuscita, quindi tutto ciò che si ottiene. Io direi che qui, in questo momento, purtroppo non è neanche colpa vostra se il vostro desiderio non si può realizzare, perché c'è bisogno proprio di tempo, la situazione è un po' bloccata, è un po' ferma per altre motivazioni. Però comunque arriverà il momento in cui questo sogno si realizzerà. Vi ripeto, potrebbero volerci più di tre mesi, potrebbe arrivare ad esempio in tardestate o all'inizio dell'autunno. Cos'altro mi viene da dire? Allora, se sono questioni legali, legate ad esempio a una casa, all'acquisto di una casa e così via, sicuramente qui ci vuole un po' di tempo, però comunque arriva. Potreste essere aiutati nel raggiungere questo obiettivo e da persone a boicare, però sì, qua io direi che con un po' di tempo e un po' di pazienza, anche se al momento vi sembra tutto bloccato, ci riuscirete. Occhio a non cadere nello sconforto, perché comunque il 5 di coppia mi parla anche di sconforto, un po' di tristezza, perché magari proprio ora non riuscite in qualche modo a divincolarvi da questa posizione, però comunque ci riuscirete. Quindi, complimenti a chi ha scelto questa variante, vi ripeto, ci vorrà un po' di tempo, ma un po' di tempo in più rispetto ai tre mesi, però ci riuscirete. Andiamo alla seconda variante, questi mazzi giganteschi, difficilissimi da mischiare per chi come me ha le mani piccole. Andiamo a vedere se si realizzerà il vostro desiderio, voi che avete scelto la seconda variante. Andiamo a vedere se il vostro desiderio si realizzerà, voi che avete scelto la seconda variante. Allora, cade subito un 10 di bastoni, un 3 di bastoni, è una forza. Allora, io qui direi che il desiderio si potrebbe realizzare, soprattutto se sul piano lavorativo, ma ci vorrà veramente molta energia. A fondo mazzo cade il cavaliere di spade, quindi diciamo che l'energia che dovete mettere per il raggiungimento di questo obiettivo è tanta. E qui, con questo 10 di bastoni, cade proprio una certa pesantezza, quindi degli ostacoli che dovete superare per il raggiungimento di questo obiettivo. La stessa non è negativa, non parla di una riuscita completa, parla più del vostro impegno per il raggiungimento di questo scopo. Quindi diciamo che il desiderio non si realizzerà se state con le mani in mano, ci vuole un intervento attivo da parte vostra. Direi aggressività ma anche tenacia, soprattutto sul piano lavorativo, qui o comunque se si parla di amicizie, relazioni, legami, qua c'è proprio un bisogno di affrontare la questione a pugno duro, insomma, prendendo la situazione proprio più che di petto, in modo proprio forte. Qui non mi rispondono se si realizzerà il desiderio perché comunque sembra quasi che dicano che dovete impegnarvi voi, perché in questo momento forse state aspettando che le cose scorrano, state lasciando, cioè vi sentite un attimo bloccati perché ci sono degli ostacoli, ma in realtà qua dicono che, a differenza della variante precedente, non dovete aspettare niente, dovete proprio prendere voi la situazione in pugno e agire, perché è come se dicesse che siete voi padroni della riuscita di questa situazione. Quindi direi così, se continuate a stare fermi, a lasciarvi schiacciare un po' dalle circostanze, questo desiderio entro tre mesi non si realizza. Se prenderete di petto la situazione e l'affrontate in modo attivo e proattivo, allora sì, entro i tre mesi, poi tra l'altro esce il tre di bastoni, potreste anche riuscire a realizzarlo, direi, visto che inizia la stesa con un dieci di bastoni, magari dovete aspettare proprio l'inizio del terzo mese. Allora, andiamo avanti, in bocca al lupo per chi ha scelto questa variante, niente, speriamo bene, andiamo all'ultima variante, quindi vediamo se il desiderio per chi ha scelto la terza variante si realizzerà, vediamo se il desiderio per chi ha scelto la terza variante si realizzerà, un sette di sfade, la regina di sfade, andiamo se entro tre mesi, è il fante di bastoni, fondo mazzo e la temperanza. Allora, sistemiamo un attimo qui le carte. Allora, io direi che entro tre mesi questo desiderio è difficile che si realizzi, potrebbe realizzarsi solo in parte, in maniera spicciola, in maniera quasi inconcludente, o comunque come se non vi soddisfosse comunque in pieno. La carta della temperanza qui parla di una situazione che verrà portata avanti così come adesso, almeno per i prossimi tre mesi. Io qui ci vedo l'intervento di una donna, o comunque la presenza di una donna, che in qualche modo interferisce in questa situazione, che porta un po' di scompiglio, comunque la cui astuzia, arguzia, vi allontana dal vostro obiettivo. Sicuramente qui c'è da pensare una strategia diversa, perché comunque il sette di sfade vi dice anche questo, quindi che la vostra strategia attuale non è quella corretta. E il fante di bastoni mi parla comunque di novità in arrivo, ma comunque non sono all'altezza della vostra aspettativa, perché qui c'è un lavoro soprattutto mentale da portare a compimento, ma non solo, perché comunque la regina di spade, se non incarna l'idea di un'altra donna, che in qualche modo può interferire in questa situazione, potrebbe anche indicare che siete voi, che magari state elaborando male i vostri pensieri, o comunque state portando battaglia nel modo sbagliato, appunto il sette di sfade, che vi chiede un attimo di essere più furbi, più scaltri. In ogni caso qui la risposta direi che per i prossimi tre mesi è un no, proprio perché c'è questo intervento pesante di questa donna, o comunque siete voi che non state conducendo la battaglia nel modo giusto. Cercate un attimo di riequilibrare i vostri pensieri, e di pensare a una strategia completamente diversa. Ovviamente ricordatevi che sono solo tre mesi, quindi tra tre mesi potete ripetere l'interattivo, o comunque riporre la stessa domanda, non vi scoraggiate, il sole arriva per tutti prima o poi. Con questo abbiamo concluso l'interattivo, era veramente molto breve, spero vi sia piaciuto, lasciatemi dei feedback nei commenti, vi saluto e vi mando un bacione. Ciao ciao!